Le scale tra Ragusa e Ragusa Ibla si vestono a festa. Da oggi a domenica 20 ottobre il quartiere Barocco accoglie le scale del gusto, la manifestazione dedicata alle eccellenze del territorio, dall'enogastronomia al patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico. Organizzata dall'Associazione Sud Tourism, la Kermess, ha in programma tantissimi appuntamenti per un lungo fine settimana. Si parte dalla sezione prodotti e produttori dalle 18 di questo venerdì con la possibilità di incontrare gli artigiani del gusto che presentano le loro migliori produzioni agroalimentari. Un percorso che si snoda lungo le antiche scale per poi finire all'antico mercato pubblico in via del mercato dove per la prima volta verrà allestito il villaggio del gusto per un viaggio nei sapori dell'enogastronomia popolare e dove non mancheranno le sorprese oltre alle pietanze per vegani e vegetariani. Per la sezione le esperienze del gusto, gli approfondimenti guidati da chef, produttori ed esperti che si concentreranno alla confraternita dei Cenacolari, stasera da non perdere alle 19, l'incontro dedicato alla carrua, la carrubba, frutto d'oro degli iblei, con la degustazione finale dello zanfarru di carrubbe dello chef Marco Giudice, mentre all'evento il laboratorio a cura della Colfilac sul ragusano DOP che ne farà conoscere le fasi di produzione, le caratteristiche e le sfumature con la chicca aggiuntiva di una degustazione in accompagnamento alle birre artigianali. Primo incontro con il gusto della letteratura, sezione tra le novità del programma 2019, con lo scrittore Carlo Blangiforti, insieme allo chef Carmelo Floridia, tra parole e cucina delizierà il pubblico di Palazzo Sortino Trono sull'arancino siciliano alle 20. Immancabili le strade del vino, tra Masterclass e banchi d'assaggio, in collaborazione con la strana del vino Cesaruolo di Vittoria e AIS Sicilia. Stasera in particolare le Masterclass punteranno i riflettori sul territorio di Vittoria, tra rosati, frappato e il cerasuolo tradizionale. I banchi d'assaggio saranno invece allestiti per tutto il fine settimana alla Sala Gialla di Palazzo Cosentini. Spazio anche alle cene con vista, tra il gusto delle pietanze preparate dagli chef e la bellezza iblea a cura dell'Associazione Provinciale Cuochi Iblei, in collaborazione con Slow Food di Ragusa. Alle 21 allargo Santa Maria in programma la cena con vista curata dagli chef Gianni Di Grandi e Francesco Monè. Alle 21 e 30 invece al Belvedere Santa Lucia saranno gli chef Angelo Di Tommasi e Valerio Mallia a conquistare il Palato dei Commensali. Per tutto il fine settimana tantissime le degustazioni all'interno della sezione prodotti e produttori, magari da assaporare tra una visita e l'altra i campanili di alcune delle chiese più belle del territorio all'interno delle scale dei tesori. Per chi vuole scoprire di più sull'enogastronomia locale, ci sono invece i ristoranti aderenti a Via dei Sensi con menù dedicati, mentre le aziende in questi giorni accolgono i visitatori proponendo visite guidate e degustazioni all'interno dell'iniziativa Porte Aperte. E infine, sempre stasera alle 18, il Laboratorio Sensoriale delle Fattorie Educative Iblee, i profumi della campagna Iblea. Presidio Slow Food e dalle 23 e 30 la prima serata di festa si conclude con il party firmato Scale del Gusto dai vini ai vinili con il DJ Angelo Di Stefano.